Aspetta, ci vuole il microfono? Prego. Grazie. Grazie Laura. Paolo Vinci, 7 Gold, Tele City. Ciao Stefano. Ciao. Ieri in conferenza avevi anticipato una squadra che sarebbe stata aggressiva, forte, che avrebbe tenuto la palla, avrebbe agito. Poi in campo, sinceramente, non abbiamo visto questa situazione. Abbiamo visto più che altro un palleggio dell'Inter. Cosa è successo? No, credo che invece noi siamo partiti bene, siamo stati aggressivi, abbiamo provato a gestire noi la partita. Su un nostro errore abbiamo dato il rigore, la possibilità all'Inter di andare in vantaggio. Poi abbiamo reagito e abbiamo giocato pallone su pallone contro una squadra molto forte, ma dimostrando di essere forti anche noi. Grazie. Prego. Andiamo da Tele Lombardia. Michael Puomo. Buonasera, mister. Sera. Se ci racconta le scelte, quella sorpresa soprattutto di tenere fuori Salemacher, e la seconda domanda che le faccio, ieri non le abbiamo parlato in conferenza pre dell'incontro con Cialanoglu. Oggi ha anche segnato, c'è stata questa accoglienza di San Siro, se vi siete visti, vi siete salutati. Le scelte sono state fatte perché nell'ultima partita Salemacher mi ha sembrato un pochettino in caro di rendimento, soprattutto dal punto di vista tecnico, e perché volevo giocare con due o tre quarti per cercare di togliere un po' di riferimenti ai tre difensori dell'Inter, e quindi giocare con Krunic e Ebrahima ai lati di Brozzi ci sembrava la situazione migliore. Poi dopo quando è stato un momento che il terzo dell'Inter, soprattutto Bastoni e poi Di Marco, ha cominciato a salire di più, ho fatto il cambio, ho messo a Salemacher che è entrato bene, che ha fatto bene, e per quanto riguarda Ciala ci siamo salutati a fine partita, normalmente. Altre domande? Sì, Sky Paventi. Ciao Stefano. Ciao Andrea. Volevo capire se questo tipo di confronto aumenta le certezze del Milan di questa stagione, visto che affrontavate una squadra matura, campione d'Italia, che tipo di sensazione hanno avuto questi 95 minuti? Assolutamente sì, assolutamente sì, aumenta sia la consapevolezza dei nostri mezzi, sia la consapevolezza che il livello in Italia delle squadre che lotteranno per lo scudetto è molto alto, e quindi noi siamo obbligati a mantenere alto il nostro livello di prestazione, obbligati a mantenere questa concentrazione, questa determinazione, questo spirito, e questa qualità. Però sì, perché se ripenso ai derby dell'anno scorso, anche quello dove abbiamo vinto, credo che stasera la squadra sia stata una squadra più coraggiosa, con più spirito, con più iniziativa, con più capacità di andare a cercare duelli, quindi sicuramente una squadra più forte rispetto a quella dell'anno scorso. Mediaset, prego. Ciao Stefano, Marco Barzaghi, volevo chiederti se dopo stasera sei ancora convinto che sia favorita l'Inter, o un po' più favorita anche il Milan, essendo riusciti comunque a tenerli a sette punti? Io credo che i sette punti in questo momento siano pochi, visti tanti punti che ci sono ancora alla fine del campionato, e credo che l'Inter sia una squadra molto forte, come ha dimostrato stasera, ma continuo a ripetere che ci sono 4-5 squadre che lotteranno, secondo me, fino alla fine per vincere lo scudetto, e in questo ci siamo anche noi. Aria Ciao Stefano, senti, esco dalla partita perché ti volevo chiedere questo, si parla tanto di curve in un certo modo, volevo sapere cosa hai trovato quando hai visto una coreografia che ha fatto emozionare tutti. Se non mi aveste fatto la domanda voi, l'avrei detto spontaneamente io, perché sono rimasto non sorpreso, perché ormai ho imparato a conoscere i tifosi rossoneri, tutti i tifosi rossoneri, credo che sia stata l'iniziativa non solamente della Curo, ma di tutta l'associazione di tifosi, e dedicare in una partita così sentita, una rivalità così importante, una partita così delicata, un pensiero a una categoria di professionisti, sia adoperata per cercare di tutelaci, di poterci, in questo momento molto difficile, credo che sia stato un segnale di grandissima civiltà, di grandissimo rispetto, quindi veramente orgoglioso di avere dei tifosi così. Le ultime due gioie, poi per le gatti. Salve mister, per quanto riguarda gli sconti diretti, il Milan ne li ha fatti praticamente tutti, a parte il Napoli che ci sarà il 19 dicembre, può essere un vantaggio pensando al giro d'andata, oppure ovviamente tutte le partite saranno complicate? Io continuo a pensare che la differenza alla fine la faranno i punti guadagnati o perse con le altre squadre, e non negli sconti diretti, anche se chiaramente un segnale che stiamo dando importante a noi stessi, è che negli sconti diretti abbiamo tenuto testa a tutti gli avversari, una volta abbiamo vinto, una volta abbiamo pareggiato, ma abbiamo giocato sicuramente la squadra, questa ci deve la convinzione. Però saranno le partite, il prossimo gruppo saranno le partite con la Fiorentina, con il Sassuolo, con il Genova, con l'Udinese, che poi faranno la differenza nella classifica, e sono quelle da preparare meglio possibile, sono quelle da cercare di portare a casa più punti in classifica, assolutamente, e soprattutto dopo la sosta ci aspetto subito una settimana molto impegnativa, tra sabato a Firenze, mercoledì a Madrid, e poi in casa con il Sassuolo, quindi ci dobbiamo preparare bene, mi auguro che i miei nazionali facciano bene il nazionale, visto che ne abbiamo tanti, che se lo meritano, ma soprattutto che torniamo in buona condizione, perché abbiamo bisogno di tanti giocatori. Ultima Carlo. Sì, buonasera Stefano. Buonasera. È la terza tappa del campionato, terza tappa che vede il Milan al primo posto, nella seconda tappa era il secondo dietro il Napoli. Mi sembra che in questa terza tappa andrei a sottolineare questo, Milan che a volte mette in primo piano il gioco, a volte trova anche altre qualità. Questo alternare gioco, Atalanta-Roma per esempio, Torino-Inter questa sera, ha messo in campo la sua qualità, ma soprattutto certe caratteristiche. Questo tirare fuori dal suo cilindro, qualità oppure caratteristiche diverse, mi sembra che sia la caratteristica di questo Milan, di questa terza tappa. Assolutamente, è un binomio vincente. La qualità del gioco, con gli atteggiamenti giusti, con il sacrificio giusto, con lo spirito giusto, con la determinazione giusta, con la voglia di essere squadra all'inizio della fine, hai più probabilità di vincere la partita. Poi ripeto, i livelli sono molto simili, le squadre sono molto forti, le partite vanno combattute. A me è piaciuta la mentalità della squadra, che non si è tirata indietro, non è indietreggiata di un centimetro, che ha giocato pallone su pallone, vincendo tanti duelli, perdendone altri, non abbattendosi se l'Inter ha avuto qualche situazione, farò neanche il suo tempo, anzi, riprendendo in mano la partita nel finale, abbiamo cercato di vincere, questa è una bellissima mentalità, e questa ci deve accompagnarla qui, alla fine della stagione. Sapendo che, anche l'anno scorso, si è venuto bene, adesso stiamo facendo meglio, ma c'è, c'è ancora tante partite, c'è ancora tanto spazio, per mantenere alta questa concentrazione, questo livello di prestazione, perché siamo sicuramente in crescita, e siamo una squadra forte. Grazie a tutti. Grazie.